Ciao ragazze ben ritornate sul mio canale benvenute scusatemi la faccia ma oggi sono così avrei dovuto mettermi un po' a posto per questo video perché è un video un po' non particolare ma è leggermente un pochino diverso di quello che faccio io però ormai sappiamo che sui nostri canali youtube ne parleremo di tutto e io oggi vorrei parlarvi di un'azienda che da poco sono entrata per collaborare con loro ma non collaborare nel senso che loro mi inviano i prodotti gratis come certi youtuber di qua ricevono ma di lavorare con loro nel senso che attraverso le vendite che io faccio nel senso con i clienti che li trovo con le persone che sono interessate a questo genere di prodotti di questa azienda io posso guadagnare e tutto via perché ho scelto perché si tratta di un lavoro che si chiama network marketing quindi si lavora attraverso l'internet online e quindi non si fa la vendita dei prodotti ognuno va sul sul sito ovviamente a qui presente profilo e si scopre tutte le categorie dei prodotti a quale è interessato si fa l'acquisto se la paga tranquillamente e le arriva a casa non c'è nessun problema a me magari mi può contattare per chiedermi dei consigli per chiedermi di come mi sono trovata se io ho utilizzato certi prodotti di questa azienda se li va bene quel prodotto oppure chiedermi il mio contatto la azienda di quale vi sto parlando è un'azienda italiana si lavora qui in italia non lo so se è la sede di pisa ma io ho visto che arriva tutto da lì io non sono entrata da tanto cioè pochissimo sto ancora cominciando a fare conoscenza con questa azienda ma con i prodotti perché perché bisogna anche imparare perché ho scelto ora vi dirò prima di tutto per avere un lavoro perché tanto a me piace stare su chat mi piace stare su chat nel senso di chattelare di cose inutili futili e cose importanti vedete ho aperto canale su youtube su youtube anzi ne ho due canali ne ho anche uno nella lingua rumena chi non mi conosce lo ripeto per la medesima volta non sono italiana nata qui sono di origine rumena nata in romania ma vivo in italia di ormai un bel po di anni quindi ho scelto perché io soffro di una non di una di diciamo sì una patologia ma che intorno a se si rigirano altre mini patologie più piccole e devo perdere peso prima di tutto ho provato e tuttora sono iscritta in un programma ovviamente dietologico in un ospedale ma i risultati non sono quelli che io vorrei e ho detto proverò anche l'azienda non l'ho cercata io per entrare in questo team non l'ho cercata io sono stata contattata attraverso l'instagram da una ragazza la chiamo ragazza ma è una persona distinta che mi ha proposto questa opportunità che sia del lavoro ma anche di guadagnare ma anche di che magari poi potrebbe aiutare a livello personale sia di salute ma anche di benessere se come io sono sempre interessata e voi lo sapete che sul mio canale vi faccio vedere milioni e miliardi dico di cose che io provo sapete bene che io tratto in genere di beauty e make up perché questa è la mia passione però anche questo questa azienda ha un settore a due settori anzi non direi una cavolata anzi 3 perché anche il benessere un settore che tiene di cura c'era anche di make up e sia di beauty quindi ho detto perché no a parte che ne ha questi settori qua poi ne ha i settori dedicati ai integratori ai sostitutivi dei pasti ai programmi detox ai programmi dimagranti a chi vuole perdere peso a chi vuole stare bene con se stesso c'è un un ramo dove è dedicata alle persone che fanno lo sport pratica uno sport che hanno bisogno di un integratori delle cose alle persone che fanno una vita frenetica che sono sempre in giro che lavorano in ufficio stanno sedute cose del genere non hanno tempo di fare un pasto diciamo corretto e magari si aiutano con uno dei prodotti di questa azienda che li sostituisce il pasto ma che sia sano perché non vi ho detto ma questa azienda ha dei prodotti tutti bio e vegan quindi è molto indicata anche le persone che sono vegane e quello che mi è piaciuto io non vado su questo ramo non ci ho mai guardato però assaggiando un prodotto perché nel mio kit di entrata mi è capitato lo shake che può essere un buon sostituto sostituto per un pasto o per uno dei pasti non direi pranzo potrei dire colazione cena oppure per una merenda ma mi sono trovata bene nel senso che mi è piaciuto il gusto perché io ho già provato dei shake che sapevano di qualcosa di artificiale ora lo sapete bene le mie opinioni tutto quanto sono pur personali e pur basati sulle mie esperienze io in questo momento vi parlo ma perché perché voglio pubblicizzare ma sono anche un pochino entusiasta di fare parte di questo team e magari tenendovi al corrente dei miei traguardi anche a livello personale nel senso parlando del peso perché se non lo sapete ma chi mi conosce ed è entrata sul canale italiano lo sa che una volta avevo parlato un po della mia patologia sono anni che ho combato col perdita di peso e quindi è una cosa che mi preme un pochino perché di quello che soffro non sono molto contenta e non ci posso fare neanche altrimenti nulla perché sono nata così con questo disturbo è un disturbo del mio pancreas e quindi io devo stare a un certo peso per non avere problematiche quello che non è così facile l'azienda si chiama snap vi ho già detto viene credo che è italiana ma credo che viene dalla pisa secondo me non so questo è la scatola col kit che vi arriva a casa per entrare in questa azienda bisogna acquistare un kit che è interessato si può anche iscrivere mi può contattare tranquillamente io vi lascerò qui sotto questo video sia il link del mio della mia pagina per poter andare a vedere i prodotti di questa azienda ma avrete anche tutti i dati dove mi potete contattare o entrare a vedere di cosa sto parlando perciò ho già detto che questa azienda a vari settori al settore di benessere di beauty vedete vi faccio vedere tipo così brevemente i cataloghi perché io ce l'ho perché sono compresi compresi in questo kit tratta la linea di make up che questa mi piace quello lo proverò e quando io ho i prodotti sotto mano perché acquisto per me personale non è che mi vengono regalati dall'azienda poi c'è il caffè del benessere che questa è una cosa molto importante tutti abbiamo una macchinetta da caffè in casa io vi do un consiglio andate a vedere e poi vabbè abbiamo un ricettario abbiamo i profumi ci sono anche dei profumi qui in questa azienda poi ci sono anche c'è un prodotto che si può utilizzare per i germi e per i batteri per tutta la casa sia per il giardino per c'è un sacco di cose e quindi mi sono buttata in questa avventura pensando che mi sarà magari utile vi faccio vedere anche questo è il prodotto che mi ha arrivato insieme a tutto il kit che è un shake vegan plus che è un sostituto sostituto del pasto per il controllo del peso e gluten free e vega e questo al gusto di cacao un barattolo di questo vi deve durare un mese ne ha più di mezzo chilo a 550 grammi e fatto così e poi qui avete tutte le indicazioni tutto quanto se soffrite di patologie di cose varie vi consiglio nel momento quando voi decidete di acquistare qualcosa di consigliarvi sempre con il vostro medico di fiducia o con il vostro dietologo dietista se seguite un percorso attraverso loro perché è molto più indicato io non vi consiglio di andare a prendere senza consultare il medico se soffrite di patologie se non soffrite fate come volete ok vi lascerò giù sotto nell'infobox tutti i dati così magari andate a vedere e vi guardate un po questa azienda e se deciderete avrete anche la mia pagina che così vi sarà più utile per qualsiasi info per qualsiasi cosa non esitate a contattarmi vi mando un bacione grosso ci vediamo presto qui sul mio canale vi mando un po' di più